Ciao, sono Manuel, vivo in un piccolo paesino del Molise. Sono Bruno Adamo e vivo a Ripatranzone, un paese nelle Marche. Mi chiamo Pondiero Venoquendo, sono da Perù, ma abito a Milano da sei anni. Mi chiamo Giovanni Santonocito, ho 25 anni e vivo a Catania. Ho partecipato al premio Alberto Giovandini perché da anni sogno vivo e quando ho visto il premio ho pensato fosse un'opertà unica, un'occasione imperdibile. Sin da piccolo mi hanno insegnato a rispettare l'ambiente. Il mio sogno sarebbe il premio di diventare un ingegnere strutturista all'avanguardia. Il premio Alberto Giovandini sarà utilizzato per cofinanziare una borsa di dottorato sul tema del digital twin, ossia del gemello digitale per le infrastrutture. Quando mi è stato comunicato di aver vinto questa borsa di studi è stato un momento davvero emozionante. So che sarà molto stimolante vedere i principali progetti che WeBuilt ha nel mondo, scoprendo sempre di più nel campo delle costruzioni. WeBuilt è un'eccellenza unica nel suo genere. Se ti piacciono le cose grandi non c'è di meglio. In realtà non so cosa mi aspetta, sono pronto a tutto.